Politiche giovanili, un incontro importante tra le varie amministrazioni comunali delle tre isole qui stamani a Procida. Assessore Ambrosino. Sì, oggi è stato un incontro molto interessante, organizzato dall'assessore delle politiche sociali di Procida e dal sindaco, che ci permette a noi comuni delle isole di avere un confronto con l'assessore delle politiche giovanili della regione Campania per discutere, essenzialmente mettere in evidenza le criticità dei nostri giovani e cercare insieme di dettare delle linee politiche condivise. Quanto sono importanti questi incontri? Quest'incontro in particolare è importante perché noi oggi abbiamo firmato un accordo che prevede, in collaborazione sempre con la regione, di mettere su un osservatorio delle politiche giovanili, vederci almeno due volte all'anno per analizzare i dati dell'osservatorio e infine dettare le linee guida. Tutti insieme le tre isole? Sì, Procida, Capri e l'isola Dischia.